La parola chiave è efficienza energetica e il comune di Sant'Orso si è da subito messo in gioco per tradurla in realtà. L'intenzione, spiega il sindaco Pietro Menegozzo, è di creare la Green Community dell'Alto Vicentino, insieme a Schio, Valli e Torre Belvicino, per sviluppare politiche ambientali su misura per le nostre realtà. Primo passo è il progetto europeo Intelligent Energy, che coinvolge cinque nazioni e tante scuole. In particolare in municipio Sant'Orso c'è stata la premiazione del videocontest nazionale Plus Plus, vinto dall'istituto professionale ENAIP di Vicenza, che riguarda il sistema di etichettatura europea sugli elettrodomestici. Poi abbiamo dato per esempio ai ragazzi un esercizio da fare con il frigolifero di casa propria, e simulando un'ipotetica sostituzione dell'elettrodomesticus dovevano vedere quanto avrebbero potuto risparmiare, facendo proprio la contabilità dell'energia e dei costi, proiettandola in un periodo di dieci anni, avrebbero potuto vedere quanto avrebbero risparmiato sostituendolo. Grazie a tutti.